Dentro la notizia. Attualità e territorio. Un programma di Giulia Sancricca e Carla Campetella. In onda ogni giorno alle ore 10 e 10 su Radio C1 in blu. Dentro la notizia. Bentrovati da Giulia Sancricca e da Marco Morosini. Buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno. Oggi doppia novità. Non solo non c'è Carla perché, come abbiamo detto, la scorsa settimana è in ferie quindi la immaginiamo in riva al mare e diciamo anche con un po' di sana invidia ma siamo in diretta, sono le 10 e 11 e siamo qui a trasmettere dalla redazione di Radio C1 a Camerino e accanto a me ho Marco Morosini che ci accompagnerà, un giornalista che ci accompagnerà per tutta questa settimana e che sicuramente avrete già avuto modo di conoscere sia con gli articoli sul sito appenninocamerte.info che con la sua voce sulle frequenze di Radio C1 in blu. Ma proprio perché sarà con me al fianco su questa trasmissione per questa settimana andiamo a sentire e a conoscere chi è. Allora, ciao Giulia e un saluto a tutti gli ascoltatori, così ho anche l'occasione di ascoltarvi, di parlarvi anzi in diretta e quindi di procedere e parlare in maniera anche più tranquilla, meno codificata rispetto alle voci che ascolterete e che avete già ascoltato che è l'impostazione invece del giornale radio. Noi naturalmente facciamo il nostro dovere e lo facciamo al meglio. Adesso ci prendiamo qualche libertà con Giulia, quindi sono qui nel ruolo di redattore, di conduttore per Radio C1 e l'Apenino Camerto un'occasione davvero unica di tornare al microfono dopo tante esperienze fatte al mondo della radio ho iniziato proprio a 18 anni, oggi ne ho 24 e insomma adesso posso mettermi a disposizione proprio per Radio C1 parlando dettagliatamente a questo territorio perché so che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio C1 sono persone che ci tengono molto alla radio, al giornale, all'Apenino Camerto e quindi mi fa molto molto piacere anche eventualmente ricevere i vostri feedback e questo insomma sarebbe interessante capire insomma come ascoltate la radio e ricevere anche il benvenuto da voi io intanto il benvenuto ve lo do e quindi insomma ricevere anche il vostro feedback mi farebbe molto molto piacere Allora abbiamo deciso come notizia del giorno di parlare di Marco perché sicuramente per gli amanti dei quotidiani chi si aggiorna anche sui siti avrà avuto modo di conoscere la sua storia Noi non ne avevamo parlato ma oggi abbiamo l'occasione per parlarne con lui e possiamo dire che è anche un po' quello che l'ha portato qui in nostra compagnia Marco è un giornalista ma il covid, la pandemia è stata per lui l'occasione di mettersi in gioco in un altro lavoro e anche lì scoprire e dare l'esempio che quando le attività, quando il lavoro si fa con passione a prescindere se quello è il lavoro che vogliamo fare nella nostra vita o no poi ci lascia non solo arricchiti ma arricchisce anche gli altri e questa è un po' la storia di Marco che oggi sarà lui stesso a raccontarci Allora Marco cosa hai fatto in questi ultimi mesi? Allora sono stati mesi intensi come potete ben capire saranno stati mesi intensi anche per chi ci ascolta inevitabilmente l'emergenza pandemica da covid-19 la stiamo ancora vivendo adesso peraltro parliamo nel primo giorno d'estate quindi andiamo in zona bianca c'è un'apertura notevole forse un primo ritorno dopo anni a una normalità normalità che non c'è stata neanche sul piano del mondo del lavoro inevitabilmente la mia storia inizia il 15 ottobre del 2020 quando discuto la mia laurea magistrale peraltro discuto in presenza indossando una mascherina nel mese e mezzo che segue invio curricula naturalmente ad aziende, ad enti in molti casi non ricevo nessuna risposta e questa è una cosa appunto incredibile uno si aspetta magari la negazione no non c'è posto invece qui nessuna risposta purtroppo ed è quel punto dopo aver sondato un mercato di lavoro che è falsato diciamolo pure da una pandemia notevolmente gravato da questa situazione con un'economia che a tutt'oggi risente dell'emergenza sanitaria accetto una proposta di supplenza a scuola ok fino a qui direi tutto normale ma non da insegnante da collaboratore scolastico quello che in gergo tutti conoscono come Bidello e dunque nel dicembre del 2020 entro per la prima volta a scuola anzi rientro a scuola non sui banchi così come avevo memoria ma insomma tra gli operatori quindi conoscendo anche il dietro le quinte tutto inizia con la primaria olimpia di Montefano proprio nel dicembre del 2020 dove lì ho ripreso appunto a frequentare la scuola ho preso in vano di fatto anche stracci eccetera perché il nostro ruolo soprattutto nel bel mezzo di una pandemia è stato fondamentale nel assicurare la sicurezza degli spazi la sanificazione degli stessi per evitare naturalmente il contagio questo fino alla metà di gennaio 2021 appunto dalla metà di gennaio 2021 una nuova esperienza in questo caso il segno dei tempi è ben evidente perché il nuovo contratto con cui sono passato a un'altra scuola ossia la scuola dell'infanzia la primaria Mamelli di Macerata era un contratto covid in che cosa consiste? si tratta fondamentalmente di un contratto innovativo che è stato istituito proprio nel 2020 per far fronte alla emergenza quindi personale, operatori scolastici quindi sia insegnanti che collaboratori aggiuntivi per insomma affrontare da prima la riapertura delle scuole e ora naturalmente l'emergenza in evoluzione è stata un'esperienza fantastica in cui ho dato tutto me stesso soprattutto ho manifestato tutto me stesso senza alcun problema naturalmente quindi è stato un momento interessantissimo perché ho vissuto non solo le mansioni che sono classiche del collaboratore scolastico ma anche il rapporto con i bambini e con le bambine con bambini dell'infanzia, della primaria della primaria quindi insomma è un'età in evoluzione e tornare insomma tra i bambini ormai d'adulto con la memoria però che è ben presente di quando andavo a scuola è stata un'esperienza fantastica tant'è che questa voglia di insomma partecipare e questo entusiasmo che ho messo anche in questo lavoro che uno considera un lavoro umile ma comunque un lavoro rispettabilissimo ripeto soprattutto dal punto di vista contrattuale è pur sempre un pubblico impiego e al termine di questa bella esperienza sono stato al centro di una festa un po' sorpresa questo è successo una cosa molto particolare sento suonare la campanella perché probabilmente è il momento di uscire per la prova di evacuazione poi una volta usciti tutti i bambini del plesso quindi sia la primaria che l'infanzia ecco qui scoprire scopro che di fatto non c'è nessun incendio nessuna tantomeno prova di evacuazione semplicemente sono tutti usciti per festeggiare Marco cioè per festeggiare me e dico ma com'è possibile una cosa del genere? è incredibile e tant'è vero che appunto mi hanno fatto una bellissima festa e la consegna di un diploma e di un tocco colorato realizzato proprio dai bambini il diploma che recitava grazie per la collaborazione per il sorriso che hai mostrato nonostante la mascherina quindi sotto la mascherina in questo bel periodo e in una cerimonia di fatto pubblica certo all'interno della scuola in cui adesso posso dire di essere ulteriormente arricchito di un nuovo titolo certo ci sono le lauree c'è l'adrenale, c'è la magistrale c'è un master che sto frequentando che è tuttora in itinere ma io devo ammettere che il diploma che ho ricevuto lì a scuola è senza dubbio il più importante della mia carriera accademica e professionale perché proviene da una scuola da donente pubblico e soprattutto non è un semplice termine di una serie di procedure burocratiche l'università si sa si studia si fanno degli esami si fa l'esame finale e poi si ottiene il titolo in questo caso non c'è nulla di scontato allora visto che parlo anche da giornalista dove è la notizia? la notizia è proprio in una scuola intera bambini, operatori scolastici insegnanti, preside di SGA che festeggia un collaboratore scolastico che nel clima del contesto della pandemia si è rimesso in gioco non ha avuto la classica scusate l'espressione puzzetta sotto il naso e ha dato tutto se stesso in un settore che era diverso molto diverso rispetto a quello che ha frequentato nei tempi precedenti perché sono anche giornalista pubblicista dal 2019 e quindi insomma un modo di rivivere se stessi in modo sempre più sempre più come dire innovativo poi ho concluso questa esperienza l'ultima settimana dal 7 all'11 tornando a Montefano in questo caso l'infanzia di Montefano e qui sono bastati veramente pochissimi giorni per ritrovarmi appieno tra i bambini però l'esperienza fatta è stata molto importante in questo io direi Marco che la notizia è doppia non solo perché comunque hai avuto modo di provare questa nuova emozione e è un'emozione che ha coinvolto sia te che anche i bambini e gli insegnanti ma anche perché come hai detto tu il contratto era Covid e in questo periodo sono stati tanti i collaboratori assunti per via della pandemia ma non tutti hanno avuto questo riconoscimento non siamo qui per dire sicuramente che c'è chi ha svolto questo mestiere in maniera sbagliata o lasciando meno sicuramente nei rapporti interpersonali nei legami che si creano soprattutto nel mondo del lavoro c'è sempre qualcuno che si arricchisce qualcuno che dà in questo caso però Marco ci sta dimostrando che ci sono persone che hanno una luce dentro e che con quella luce riescono ad illuminare le giornate di molte altre persone evidentemente Marco con la sua freschezza con il suo modo di fare ha fatto questo ed è anche per questo che è finito poi sulla ribalta mediatica perché ovviamente molte testate si sono interessate della tua storia anche per via delle foto della festa che tu hai pubblicato e ecco che è così con Marco ci siamo conosciuti appena si è presentata l'occasione per coinvolgerlo in questo mondo che è quello di Radio C1 di Appennino Camerte del settimanale del sito subito lo abbiamo accolto con piacere e appunto questa settimana ci farà compagnia il messaggio quindi che vogliamo dare questa mattina è quello che è sempre importante come prendere la vita perché molto spesso di treni ne passano tanti e non sempre bisogna guardare alle occasioni con come hai detto tu con la puzza sotto il naso ognuna di queste a prescindere da quello che abbiamo studiato e da quello che vogliamo fare nella vita ci può lasciare tanto e Marco è l'esempio che a lui ha lasciato tanto e che lui ha lasciato tanto ad altri ti ringrazio Giulia ti ringrazio e soprattutto grazie a Radio C1 in blu per questa straordinaria opportunità sia di raccontare me stesso e di raccontare questa esperienza che appunto è sempre bello perché ogni volta che la racconto la rivivo la rivivo e è stata un'esperienza fantastica sicuramente non era quello che mi aspettavo al momento triste ammetto triste perché ce ne sono li viviamo tutti quanti dei momenti in cui ci sentiamo giù in cui insomma ci adattiamo in alcuni casi a quella che è la soluzione migliore specialmente dopo un anno di pandemia che è stata una grande come dire ha avuto grandi ripercussioni sul piano sanitario ma parliamo da una radio e una radio è una funzione sociale pensiamo anche a quello che è stata la ripercussione in ambito psicologico sociale appunto quindi mi sembra che la vicinanza sia essenziale quindi riscoprire ancora una volta l'umanità a maggior ragione in questo periodo sia fondamentale ed è anche la ragione per cui parlo così con questo tono con questo stile da questi microfoni quindi questo significa che a partire dalle 10 e 30 dalle 11 e 30 non sentirete questo tono ascolterete ben altro tono quindi quello classico del conduttore del moderatore eccetera ma ringrazio Giulia ringrazio il direttore Mario Staffolani per questo spazio in diretta che ci consente anche di andare un po' oltre i canoni per poter raccontare un'esperienza così in modo vivace un'esperienza che come ha detto benissimo Giulia insomma ha portato mi ha concesso mi è stato concesso di portare come dicevo me stesso e anche uno stile differente rispetto a tanti altri colleghi e che magari naturalmente vivono il mondo della scuola in maniera diversa da molto molto più tempo e questo sicuramente è fantastico voglio anche aggiungere una cosa perché molti si chiedono ma come hai fatto a 24 anni a entrare nel mondo della scuola diciamo che questa è una cosa importante lo spiego in maniera molto semplice senza annoiare nessuno ovviamente le graduatorie ATA ecco questo è il segreto nel 2017 dopo aver ottenuto un diploma superiore con 100 col massimo ho ottenuto anche il massimo punteggio in ingresso per le graduatorie ATA quindi questa è stata la ragione per cui ho fatto ingresso a scuola ecco quindi non ci sono altri modi per poter entrare a scuola se non attraverso una graduatoria o per quel che riguarda appunto gli insegnanti la messa a disposizione o le supplenze oppure il concorso pubblico quindi c'è anche questo aspetto burocratico da non sottovalutare per quanti come me hanno fatto questo percorso perché un'altra cosa importante da dire è che certo c'è stato il festeggiamento c'è stata la notizia l'abbiamo analizzato però non sono stato l'unico ho molti colleghi della mia età ingegneri mi hanno scritto tra l'altro anche grazie all'arrivata mediatica quindi ho raccolto anche molti interventi ingegneri giovani laureati in economia giovani con master ma anche meno giovani e comunque con un titolo elevato che partono dalla scuola addirittura persone che attendono l'ingresso a scuola come docenti e nel frattempo cercano di entrare proprio come collaboratori scolastici e voglio anche dire questo andiamo incontro a un momento storico in cui la percentuale di laureati aumenterà sensibilmente e aumenterà sensibilmente anche nelle graduatorie è finita se vogliamo l'epoca del bidello con la terza media ora arriverà un momento di bidelli acculturati particolarmente acculturati laureati che riusciranno non dico meglio perché quello dipende molto dalla persona non è il titolo che cambia la persona ma riusciranno quantomeno ad essere sempre più sensibili all'ambiente in cui si collocano e per ambiente intendo l'ambiente organizzativo il rapporto con i colleghi ma anche il rapporto con gli utenti della scuola che sono i bambini i ragazzi l'adulto indipendentemente dal ruolo che ha nella scuola ha una funzione fondamentale perché è un riferimento io sono stato uno di quelli che non ha mai sgridato nessuno non è nella mia indole ma soprattutto credo che oltre alla formazione continua della persona sia molto molto importante il rispetto alla persona e anche il ricordo di quello che abbiamo tutti vissuto durante l'infanzia il peso che gli adulti avevano quando eravamo bambini e dunque il ruolo dell'adulto è l'esempio dell'adulto che conta molto molto di più di mille parole specie se urlate specie se dette con arroganza questo è stato il messaggio che ho lanciato nel mondo della scuola e questo è il messaggio che lancio attraverso la 2C1 a quanti ci ascoltano e riguarda ogni attività professionale ogni attività professionale ogni ruolo questo secondo me è fondamentale per una convivenza pacifica in ogni ambiente infatti devo dire che una delle prime cose che mi è rimasta impressa quando ho conosciuto Marco è stata questa lui mi ha detto io ho cercato di essere l'adulto che avrei voluto incontrare quando io ero un bambino e questo è è l'insegnamento che tutti noi dovremmo portare avanti soprattutto adesso in cui viene l'estate le scuole sono chiuse e abbiamo più occasione di stare con i bambini stiamoci come noi avremmo voluto stare con i nostri adulti e tra l'altro questo tema è duplice proprio in un momento in cui la pandemia ha permesso agli adulti di passare più tempo con i bambini quello che diciamo nei primi tempi era quasi considerato un problema perché parliamoci chiari i genitori che non avevano più un modo di trascorrere tempo con i bambini si sono trovati da un momento all'altro con la famiglia da gestire quella famiglia che molto spesso invece veniva presa velocemente durante la pausa pranzo o solo a cena e quindi oggi ci viene data un'occasione in più e Marco ce la ricorda allora diciamo che oggi ci siamo dilungati salterà il GR delle 10 e 30 e andrà più avanti però il direttore Staffolani ci dice che è d'accordo quindi per carità siamo salvi io mi auguro innanzitutto che questo spaccato vi sia piaciuto secondo me era doveroso presentarvi Marco non solo perché ci farà compagnia in questa settimana io spero anche oltre questa settimana ma anche perché la sua storia è veramente bella da raccontare è un esempio per tutti diciamo che ci siamo dilungati anche perché chi fa questo mestiere ama l'immediatezza e anche su questo il direttore credo sarà d'accordo con noi e anche in un giorno come il lunedì che visto che la diretta ce lo permette vi raccontiamo proprio cos'è per noi il lunedì il lunedì è un giorno frenetico perché lunedì e martedì si lavora al settimanale noi lo ricordiamo abbiamo due siti appenninocamerte.info tribunastadio.it e poi abbiamo la radio e abbiamo il settimanale che è un po' la spada di Damocle che incombe su di noi soprattutto all'inizio di questa settimana tra l'altro come vi abbiamo anticipato abbiamo Carla Campetella in ferie il nostro Lorenzo Cervigni in procinto di dare due esami all'università e quindi abbiamo reclutato Marco per darci una mano in questo e in questa giornata così frenetica non abbiamo però perso l'entusiasmo di andare in diretta perché la diretta per chi fa radio per chi fa giornalismo è la cosa più bella che c'è noi ci auguriamo questa settimana di poterla replicare di poter entrare nelle vostre case sempre così perché ci ha fatto piacere la sentiranno indifferita quindi registrata i radioascoltatori delle 13 e 40 ma mi auguro che anche a loro arrivi l'emozione di chi questa mattina ha voluto raccontare una bella storia e di farlo senza senza tanti meccanismi e senza tanta preparazione ci siamo messi qui e abbiamo parlato a voi come se fossimo tutti insieme grazie grazie a tutti voi allora a questo punto visto che entro nel ruolo di conduttore anche per i prossimi appuntamenti informativi mi trasformo trasformo la mia voce e chiudo questo appuntamento con dentro la notizia in modo però ufficiale in modo canonico ecco quindi rispettiamo anche un po' le regole anche se oggi l'abbiamo un po' lasciate da parte quindi da parte di Giulia Sancricca e Marco Morosini grazie per la cortese attenzione appuntamento a domani dentro la notizia attualità e territorio un programma di Giulia Sancricca e Carla Campetella in onda ogni giorno alle ore 10 e 10 su Radio C1 in blu dentro la notizia attenzione